ciao da laura a chi non piace fare una bella grigliata in compagnia nei weekend soleggiati beh se siete amanti del barbecue dovete assolutamente recuperare degli accessori per rendervi dei veri chef itineranti per chi non lo sapesse gli accessori per barbecue sono strumenti che facilitano e arricchiscono l'utilizzo di questo attrezzo con un metodo di cottura prevalentemente pensato per carne e pesce le mansioni che un grigliatore deve fare sono diverse per questo esistono molteplici accessori con funzionalità specifiche per ogni passaggio ci sono tantissimi accessori che possono essere utili per il barbecue e oggi andrò ad elencarvi i più utili ovvero quelli che non potete farvi mancare cominciamo numero 1 accensione una delle cose più importanti per una grigliata è ovviamente il fuoco per rendere più facile l'accensione di una fiamma vengono usati i bricchetti che sono prodotti generalmente con polvere di carbone pressato e altri ingredienti oppure viene usata la carbonella che rispetto ai bricchetti brucia più in fretta ma genera temperature più alte viene usata anche la ciminiera di accensione a volte per proteggere il fuoco dal clima umido e ventoso numero 2 utensili da cucina tra i vari utensili da cucina per la griglia abbiamo gli spiedini per ruotare e tenere compatti i vari ingredienti il pennello per distribuire in maniera omogenea condimenti la pinza estremamente versatile utile per evitare di bruciarsi e infine la siringa per alimenti utilizzata per marinare la carne e renderla più saporita e morbida dall'interno numero 3 manutenzione pulire a fondo il barbecue e le griglie rendono la qualità dei vostri piatti migliori per fare ciò si può utilizzare una spazzola per rimuovere le incrostazioni date dai residui di cibo per maneggiare con più sicurezza il barbecue potete utilizzare dei guanti ignifughi che sono indispensabili se non si vuole correre il rischio di bruciarsi le mani o gli avambracci quando non si utilizza il barbecue può essere utile coprirlo per evitare che il maltempo possa bagnarlo e danneggiarlo esistono a tal fine numerose coperture per barbecue numero 4 affumicatoio è utilizzato per affumicare il cibo come ad esempio la carne di solito sono universali ovvero non specifici per un solo tipo di barbecue ma dati a tutti è importante valutare la resistenza termica in quanto si tratta di un prodotto a diretto contatto con la fiamma per assicurarvi dello stato di cottura vi consigliamo anche di recuperare un termometro per alimenti perfetto per cuocere al meglio ogni tipo di carne questo è tutto potete trovare tutti gli accessori per barbecue che vi ho rincato sul sito bpmpower.com cliccando sul link riportato qui sotto in descrizione se il video vi è stato utile mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale e lasciateci un commento ciao alla prossima